La domenica che celebreremo è quella dell'ascensione e in questa domenica la prima lettura proclama la narrazione dell'ascensione. Concentriamoci un momento sul Vangelo. Quest'anno ascoltiamo il sedicesimo capitolo del Vangelo di Marco, ma per capire un pochino questi cinque versetti di questo Vangelo che vengono proclamati in questa liturgia. Ricordiamo un pochino cosa è questo sesto articolo del credo che il Signore Gesù ha sceso al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Qual è il senso? Cosa è l'ascensione? La semplice vittoria sulla legge di gravità da parte del suo corpo che assale poi in un luogo che non è un luogo perché è oltre la dimensione spaziale e temporale perché è l'eternità di Dio. Ma cosa ci interessa questo? Molto spesso viene dimenticata questo aspetto. Ascende e siede alla destra del Padre. Innanzitutto questo rappresenta il posto dove lui si ferma. Gesù pellegrino venuto dal Padre e ha vissuta la sua esistenza come un'avventura di ritorno verso il Padre. Al Padre si ferma perché quella è la meta della vita umana. Quella è la meta che ci viene rinsegnata. Tornare al Padre nelle cose. Tutto questo anche basa la nostra logica della ascesi. L'ascesi è il movimento del figlio verso il Padre. È il movimento verso Dio. Questo movimento ha una meta. Questo è un aspetto molto importante e già molto illuminante sulla festa dell'ascensione che ci insegna a seguire il Signore Gesù negli atti della nostra vita in tutte le cose che facciamo. Ma, ancor di più, questo aspetto di essere seduto non presso il Padre, ma alla destra del Padre. La destra, essendo la maggioranza della gente destrima, quindi non mancina, è la parte della forza, è la parte che indica l'azione. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie, dicono i salmi. Ecco, essere seduti alla destra del Padre vuol dire essere l'esecuzione della sua potenza. Essere il Signore veramente lì riceve, come dice la lettera ai filippesi, il nome che è il più alto dei nomi esistenti. Gesù Cristo è il Signore. Che vuol dire che Lui è il Signore? Che Lui sta lì seduto su uno scranno che indica l'autorità come le sedie di autorità delle nostre burocrazie umane? No, è ben altra cosa. Lui amministra il potere di Dio, manifesta il potere di Dio. È il Signore. Ma è il Signore dove? Qui sulla terra, nelle cose che facciamo. Ma è il Signore di quelle cose di cui Lui è il Signore, cioè della integrità della realtà, cioè della realtà piena. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. È lì che Lui si mostrerà Signore. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti, se berranno qualche veleno, non regherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Questi sono i segni. Più avanti la parola dice che quando loro partono, vedono che il Signore conferma la parola con i segni che la accompagnano. Cioè il Signore Gesù si manifesta Signore in questi segni. Che segni sono? Nel mio nome scacceranno i demoni. Essere capaci per la potenza di Dio, non per la nostra, di sgusciare, di vincolarsi dalla presa della menzogna, dalla presa del separatore, del diabolos, colui che ci separa da Dio. Frantumare la menzogna che ci separa da Dio. Nella storia quante volte abbiamo visto le persone riconciliarsi con Dio, essere liberati dalla presa del divisore. E ancora questi parleranno lingue nuove. C'è una lingua nuova che non è un idioma dei nostri idiomi terrestri, è nuova rispetto ad ogni lingua. È la lingua che parla l'uomo nuovo, che viene, come dice Sant'Agostino, dal patto nuovo. È la lingua che canta il canto nuovo, è il nuovo, la nuova ed eterna alleanza. Cioè ciò che è nato, ciò che è fresco, ciò che è figlio di Dio. Questa lingua la parla chi ha nel cuore l'amore di Dio. C'è una persona che sa comunicare in maniera forbita, raffinata, conseguenziale, con una perfetta perifrastica, quanto sia attiva, passiva, quello che sia, che sa governare il linguaggio. Forse è qualcosa di nullo, di inconsistente. E ci può essere un bambino che non arriva a un metro, che è piccolo piccolo e sa dire ti voglio bene e ti spacca il cuore. Perché quello è nuovo, l'amore. Non è una questione di saper articolare in maniera sorprendente i concetti. È la cosa nuova, la cosa che fa nascere, la cosa che rende tutto nuovo. Chi parla con amore è sempre ascoltabile con gioia, è sempre gradevole da ascoltare. Molto spesso ci sono predicatori bravissimi che però annoiano e ci sono predicatori un po' balbettanti, ma che si ascoltano volentieri. Perché c'è l'amore nelle loro parole, c'è la paternità, c'è tutta la cura materna della Chiesa nel loro comunicare. Questa è la lingua nuova che abbiamo ascoltato dai cristiani. E ancora, prenderanno in mano i serpenti. Ci sono persone che vivono scappando dalla realtà e i serpenti vanno presi in mano. C'è chi vive di terrore e di fuga. E il serpente, che è il mentitore, che è colui che coltiva la menzogna nel nostro cuore, si può prendere in mano, si può tirar fuori il problema. Prendere in mano i serpenti. Quante volte possiamo ascoltare e accogliere che la gente chiami per nome i propri peccati. E già è meravigliosa quella confessione. Saper dire esattamente dove è stato il nostro inganno, dove ci siamo fatti male. Questo è prendere in mano i serpenti. A quel punto il loro veleno non ha più forza su di noi, perché possiamo consegnare a Dio questa cosa. Bere i veleni. I veleni sono quelle cose che non si vedono in genere. Uno se li beve non pensando che è un veleno. Questa può essere una cultura. Mentre noi siamo molto concentrati sull'idea di stoppare, fermare e evitare che vengano emessi i veleni. Questo è buono, non è cattivo per niente. Ma i cristiani non vengono infettati dal vereno delle culture, dal veleno della mentalità umana. Perché non chiedono alla mentalità umana di essere dissetati, ma si stanno dissetando di Dio. Per cui se bevono questo veleno non fa loro male. Tutto è puro per i puri, dice San Paolo. E quando il cuore è toccato dalla verità, la menzogna si rivela. La menzogna suona falsa, anche se non dobbiamo mai essere superficiali su questo punto, essere sempre piccoli piccoli, aggrappati al Signore e farci aiutare da Lui. E da ultimo, questa Signoria di Cristo si mostra nel fatto che impongono le mani ai malati, questi guariranno. In tutti i sacramenti c'è l'imposizione delle mani. E passare lo spirito ai malati, che guariscono. Possono guarire, in alcuni casi, anche fisicamente, ma ciò che abbiamo visto tante volte guarire è il cuore. Poter passare lo spirito, la ricchezza della Chiesa attraverso questo gesto di imposizione e mettere nel cuore delle persone la pace, l'accettazione, la libertà, l'amore.